Tragedia all'ospedale di Sondrio. Un uomo muore dopo essere precipitato dal secondo piano. Era ricoverato nella struttura del capoluogo. Sull'accaduto indagano gli agenti della questura. Sono 300 milioni mesi a disposizione dal bando nazionale per la rigenerazione urbana finanziato con i fondi del PNRR. La graduatoria per destinare le risorse premia però solo le regioni del sud. Atilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, e Massimo Sertori, assessore agli agenti locali montagna e piccoli comuni, denunciano. Sono sbagliati i criteri con i quali si assegnano queste risorse. I prezzi dell'energia sono triplicati negli ultimi mesi e la morsa del caro vita si fa sentire anche nel tiranese. Molta preoccupazione fra gli esercenti, la piscina al comunale Annaspa, e chiede aiuto al comune. Aiutateci, altrimenti rischiamo di chiudere. Una chiacchierata con il vicepresidente del Senato, l'onorevole Gianmarco Centinaio, per parlare delle nuove sfide della nostra provincia, turismo, sanità, agricoltura, e un resoconto sulle elezioni politiche dello scorso mese. Un saluto ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione del Tg di Teresondrio News. Tragedia all'ospedale di Sondrio, un uomo muore dopo essere precipitato dal secondo piano, era ricoverato nella struttura del capoluogo. Sull'accaduto indagano gli agenti della questura, ne parliamo nel primo servizio di questa serata. Il volo dal secondo piano è lo schianto sul terreno che non gli ha lasciato scampo. Così è morto questa mattina un uomo, l'età del quale non è stata resa nota, ricoverato nell'ospedale di Sondrio. La tragedia nell'area del padiglione nord, dalla parte del cortile della struttura sanitaria. Da quanto potuto apprendere, si tratterebbe di un paziente del reparto riservato all'adegenza di oncologia. Sulle ragioni che lo avrebbero spinto, al gesto estremo, stanno attualmente indagando gli agenti della questura di Sondrio, immediatamente accorsi con il personale della polizia scientifica sul luogo della tragedia, avvenuta intorno alle 8.30. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte del personale medico ospedaliero. Sono 300 milioni messi a disposizione dal Bando Nazionale per la Rigenerazione Urbana, finanziato con i fondi del PNRR. La graduatoria per destinare le risorse premia però solo le regioni del sud. Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, e Massimo Sertori, assessore agli enti locali montagna e piccoli comuni, denunciano, sono sbagliati i criteri con i quali si assegnano queste risorse. Paolo Croce. Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, e Massimo Sertori, assessore agli enti locali montagna e piccoli comuni, non ci stanno. Alzano infatti la voce a difesa dei piccoli comuni lombardi, fortemente penalizzati dal Bando Nazionale per la Rigenerazione Urbana, finanziato con i fondi del PNRR. La graduatoria per destinare le risorse, infatti, premia le regioni del sud a discapito della Lombardia e in ricaduta di Valtellina e Valchiavenna. Purtroppo è successo quello che avevamo previsto e per il quale il presidente Fontana aveva organizzato un incontro proprio alle regioni Lombardia con tutti i parlamentari e tutte le forze di politica. Avevamo lanciato l'allarme che se non fosse stato tolto il parametro dell'indice di vulnerabilità l'effetto sarebbe stato che tutte le risorse andavano concentrandosi sulle regioni del sud e così è avvenuto. Denunciati gli errori passati, ora la scialuppa di salvataggio diventa inevitabilmente il governo Meloni che dovrà sanare quella che Fontana e Sertori definiscono una distorsione del sistema. In ballo una serie di preziosi aiuti che al momento di fatto i piccoli comuni di Valtellina e Valchiavenna non vedranno mai arrivare. Stiamo parlando di 300 milioni di bandi per i piccoli comuni che hanno visto escluso quasi completamente la Lombardia, questo è una cosa non accettabile. Se dal punto di vista politico è stato fatto un accordo tale per cui le risorse del PNRR per il 40% devono andare al sud va bene, ma il 40% non vuol dire che poi attraverso delle alchimie o qualche atto amministrativo diventa il 100%. Questa per noi è una cosa inaccettabile, produrremo questa istanza al nuovo governo e mi auguro veramente che si possa correggere sia questa situazione come anche altre perché ci sono delle distorsioni che non possono più essere accettate. L'allarme dunque è stato lanciato, ora c'è da capire quale sarà il margine di manovra del governo Meloni che in queste ore si è visto arrivare sul tavolo un numero enorme di dossier da studiare. Ed ora una sintesi dell'intervista con il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio per parlare delle nuove sfide della nostra provincia. Turismo, sanità, agricoltura è un resoconto sulle elezioni politiche dello scorso mese. Vediamo il prossimo servizio. Agricoltura e poi turismo, sanità, Olimpiadi Invernali del 2026 fino alla debacle della Lega, l'ultima tornata elettorale, quella delle elezioni politiche del settembre scorso. C'è tutto questo nell'intervista al vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio in onda il prossimo lunedì su TSN. Vediamone un'anteprima. Abbiamo un ministero nuovo di pacca, anche su una new entry, che è il ministero della sovranità alimentare. Ci si prepara a un futuro diverso e in cui il mondo dell'agricoltura possa cominciare a sperare? Io spero di sì, nel senso che il lavoro che abbiamo fatto in questi anni andava proprio nella direzione che poi sta scelto Giorgia Meloni con questo nuovo ministero, cioè un ministero che possa dare all'agricoltura italiana, quella soprattutto quella di qualità, un maggior respiro a livello nazionale ma anche internazionale. Parliamo di turismo adesso, ci stiamo avviando a una stagione invernale anch'essa, lo sappiamo, non senza incognite dopo le batoste che ben conosciamo. Da una parte però siamo ancora molto attaccati al localismo e questo ci rovina. Questo è un po' il problema di tutta Italia, io penso non solamente in Valtellina ma penso dal Brennero a Lampedusa un po' il problema del localismo sta diventando il limite per quanto riguarda il turismo a livello internazionale, però sono sempre più convinto che attraverso gli operatori del settore, che sono sempre più competenti, che hanno sempre più una visione, attraverso le nuove tecnologie che riusciamo ad avere, attraverso le nuove tecnologie riusciamo a comunicare anche dall'altra parte del mondo. L'obiettivo che abbiamo è proprio quello di riuscire a vincere le sfide. Altro punto nevralgico per Valtellina e Valchiavenna è quello legato alla sanità. Il compito della politica deve essere quello di creare le condizioni affinché ci siano persone che abbiano voglia di venire a lavorare in Valtellina, che abbiano voglia di sfidare anche un po' i preconcetti e soprattutto che abbiano anche l'idea che il sistema sanitario in Valtellina è un sistema sanitario di eccellenza. Adesso parliamo di Olimpiadi, le Olimpiadi invernali del 2026 che si stanno avvicinando. Ci vuole progettualità, ci vuole che la burocrazia un pochettino si metta da parte, perché generalmente quando ci sono progetti importanti di questo tipo poi si alza la burocrazia, che sembra sempre quella che non permette soprattutto ai privati di poter lavorare. ci vuole voglia di riscatto e soprattutto voglia di farsi conoscere, di far conoscere. Questo è un territorio che ha bisogno di essere conosciuto, perché una volta che si arriva in Valtellina poi non la si abbandona più e quindi il lavoro che deve essere fatto deve essere soprattutto un lavoro sulle infrastrutture. Ripeto, io continuo a essere dell'idea che ci sono altre aree del nostro paese che sono meno belle da vivere, da vedere della Valtellina, ma più facili da raggiungere. Lei è in Lega, all'epoca era Lega Nord dal 1990, all'epoca c'era Umberto Bossi. Le chiedo, come interpreta questo risultato e in più potrebbe per il Carroccio, nella nostra provincia, questo segnare un nuovo stimolo per riformare una certa coralità? Il lavoro che deve essere fatto dalla Lega e quindi da tutti, dal primo dei militanti fino ad arrivare agli eletti, deve essere proprio quella di rimboccarsi le maniche e ripartire da questo risultato, che a me non piace, non mi piace per niente, ma che ci deve far riflettere anche sulla qualità del nostro lavoro e su come comunichiamo. I prezzi dell'energia sono decuplicati negli ultimi mesi e la morsa del Carovita si fa sentire anche nella tiranese. Molta preoccupazione fra gli esercenti, la piscina comunale annaspa e lancia il suo appello al comune. Aiutateci, altrimenti rischiamo di chiudere. Gabriella Garbellini. I rincari stanno mettendo in dura prova ognuno di noi e anche gli esercenti tiranesi sono stritolati dalla morsa del Carovita, bollette triplicate se non quadruplicate e imprese, cittadini in ginocchio, travolti dagli aumenti. Cosguardi amareggiati, titolari di bar e ristoranti testimoniano le loro difficoltà. Fra questi il bar Lucignone in piazza Marinone a Tirano è da sempre meta preferita di moltissimi giovani. Ho avuto la bolletta triplicata, pagavo solitamente sui 1.300-1.400, ma è arrivata una bolletta da 3.500 a luglio e 4.030 ad agosto. Quindi qua bisogna intervenire e fare qualcosa. Speriamo che da qualche parte arrivi l'aiuto, se no è insostenibile la situazione. Ad Annaspare anche e soprattutto la piscina comunale tiranese Yellow Submarine, vero e proprio fiore all'occhiello dell'impiantistica sportiva di Tirano. Preziosa e storica realtà di fondamentale importanza che accoglie utenti dall'intera provincia, ma anche dalla Svizzera, ed offre una moltitudine di validi corsi per ogni esigenza. L'aumento del costo dell'energia crea enormi difficoltà e potrebbe portare anche alla chiusura definitiva dell'impianto, proprio come spiega Franco Di Vitini, inossidabile gestore della Yellow Submarine. Noi fortunatamente fino al 31 luglio avevamo il contratto a prezzo fisso, ma purtroppo dal primo di agosto i nostri costi sono lievitati, sono addirittura quadruplicati rispetto al passato. e quindi per la gestione delle piscine diventa praticamente insostenibile, anche perché le piscine sono energivole, quindi per farle funzionare occorre tantissima energia. Costi insostenibili e grande apprezzione, ha corato il suo appello al comune di Tirano. Praticamente siamo passati da delle fatture di 1.500-1.800 euro al mese a oltre 6.000 euro e quindi per noi diventa praticamente impossibile sostenere tutte queste spese. E sarebbe un peccato doverle chiudere, visto che specialmente in questo periodo c'è un'affluenza considerevole e abbiamo avuto una risposta dalla parte dei nostri utenti che è molto importante. e quindi cercate di aiutarci il più possibile. Confidiamo nell'aiuto dell'amministrazione comunale per essere sostenuti per questi costi elevati che viceversa sarebbero insopportabili. È una guerra quotidiana. Le denunce per infortuni sul lavoro nei primi otto mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2021 sono aumentate del 20,8% con 255 denunce in più. A fine anno sicuramente si arriverà a numeri drammatici come quelli del 2019, in aumento anche gli incidenti mortali, due nel 2021, già cinque nell'anno in corso. Troppo poco dunque è stato fatto in termini di sicurezza per i lavoratori. Il grido d'allarme arriva dalla riunione del Comitato Consultivo Provinciale dell'Ina e il di Sondrio presieduto da Giorgio Nana. Vediamo. Due anni di pandemia hanno fatto passare in secondo piano la drammatica realtà degli infortuni sui posti di lavoro. Dai settori dell'edilizia e dell'agricoltura, come sempre, arrivano i dati più drammatici, ma la piaga delle morti bianche e degli infortuni è presente in tutti i settori. È quanto emerso dalla riunione del Comitato Consultivo Provinciale dell'Ina e il di Sondrio presieduto da Giorgio Nana. La percentuale delle denunce per infortunio è aumentata nei primi otto mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo 2021 del 20,8%, con 255 denunce in più. In realtà, a disposizione, non abbiamo ancora i dati più significativi, cioè quelli che mettono in relazione il numero delle denunce presentate alle effettive ore lavorate. A fine agosto, le denunce per infortunio sul lavoro in cantiere o in itinere, in provincia di Sondrio erano 1.480 sulle 1.225 dello stesso periodo dell'anno scorso. Significa che entro fine anno si raggiungeranno sicuramente i livelli pre-Covid del 2019, quando i casi presi in esame erano stati addirittura 2.329. Altri numeri. Il dato maggiore è quello del 2020, con 2.499 denunce, ma in quel caso, a pesare, era stato il Covid, che abbiamo visto quest'anno invece incide meno. Inutile poi guardare al 2021, falsato dal lockdown di inizio anno. Sono numeri che poi diventano volti di persone quando parliamo di incidenti mortali. Già due in Valtline e Valchiavenna nei primi sei mesi dell'anno, erano due in tutto il 2021. Altri due casi sospetti sono tuttora sotto inchiesta, dunque quattro episodi ai quali va giunto l'incidente a Tartano a Samuele Vairetti, 29 anni di Talamona, morto mentre tagliava legname nella sua azienda. Dietro ai numeri ci sono persone e famiglie, lavoratori che non tornano più a casa dopo essere usciti per andare a lavorare, e questo è molto grave. A dirlo è Giorgio Nana, presidente del Comitato Consultivo Provinciale Inel, a conclusione dei lavori. E il congedo al momento del saluto finale non può che essere. Dobbiamo insistere sulla formazione, dice Nana, anticipandola e partendo quindi da campagne di sensibilizzazione già sui banchi di scuola. È curato dall'Agenzia di Comunicazione Visiva Armando Testa e vanta la collaborazione con il giornalista Mario Tozzi il calendario 2023 dell'Arma dei Carabinieri. Al centro il rapporto tra uomo e ambiente, quello che è oramai un vero e proprio status symbol, presentato nella sua nuova veste quest'oggi in contemporanea in tutti i comandi dell'Arma del territorio nazionale. Parliamo nel prossimo servizio. È stata presentata quest'oggi l'edizione 2023 del calendario storico dei Carabinieri, 12 mesi per 12 storie, tutte improntate alla tutela dell'ambiente attraverso un viaggio ideale lungo l'intera penisola. Da una parte dunque la natura, che per l'Arma rappresenta una delle priorità assolute sin dai tempi delle regge patenti, gli atti ufficiali su cui si fonda l'Arma dei Carabinieri dai primi dell'Ottocento. Dall'altra i militari dell'Arma quotidianamente impegnati in prima persona nel compito non facile della prevenzione e della repressione di quelli che rappresentano purtroppo i tanti crimini contro il nostro patrimonio ambientale e forestale. La natura è un posto da tutelare perché ci dobbiamo vivere, ci dobbiamo vivere bene e che richiede molto rispetto perché le attività dell'uomo possono essere grandemente dannose per l'ambiente. E quindi sono 12 tavole che attraverso delle bellissime immagini che sono state attentamente curate per essere accompagnate da delle storie significative e ci raccontano l'attività dell'Arma a tutela della natura. Un contesto nel quale i Carabinieri lavorano attraverso le articolazioni del Comando Unità Forestali e Ambientali Agroalimentari, settore in forte evoluzione anche grazie all'assorbimento da qualche anno del Corpo Forestale dello Stato. Oggi l'Arma lavora nel settore della sofisticazione, della tutela della salute e la tutela dell'ambiente attraverso tantissime articolazioni ai propri reparti speciali, per esempio cura la tutela dei corsi d'acqua, del mare, cura il Made in Italy, anche qui la tutela della salute passa attraverso molti canali. L'edizione 2023 del calendario è a firma dell'agenzia Armando Testa, un imprinting stilistico inconfondibile nel quale le immagini dal particolare valore emblematico si sposano a 12 storie che portano la firma di un narratore d'eccezione, il giornalista Mario Tozzi. Edizione fruibile anche attraverso il web dove il calendario diviene per la prima volta un vero e proprio progetto artistico di criptoarte integrato, col quale interagire sul sito www.calendario.carabinieri.it. La copertina diviene così un'opera high-tech, acquistabile online, attraverso la piattaforma Charity Stars, al fine di raccogliere fondi destinati all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. E intanto sono circa 1.200.000 le copie stampate di questo che negli anni a partire dal 1928 è divenuto sempre più un oggetto d'arte, stampato in ben dieci lingue, tra queste addirittura il sardo. C'è consapevolezza che si tratta di un'opera popolare, popolare perché compare in tutte le case di italiani, là si può vedere dentro i negozi, dentro gli esercizi commerciali, dentro gli uffici pubblici. Infatti abbiamo raggiunto una tiratura di circa 1.200.000 copie. L'opera viene edita anche in altre lingue straniere, perché viene apprezzata anche all'estero. Perché viene apprezzata? Perché rispecchia l'attività dell'arma nella vita quotidiana delle persone. Disponibile anche quest'anno, oltre al calendario l'edizione 2023 dell'Agenda, il calendario del planning da tavolo. La protagonista è sempre lei, la natura di questo paese meraviglioso e da salvaguardare, che si chiama Italia. Sarà un weekend decisamente intenso e ricco di proposte, quello che sta per iniziare. Domani cerimonia di inaugurazione e prima serata proiezioni del 36esimo Sondrio Festival, che poi proseguirà con un calendario fittissimo fino al 6 novembre. La due giorni di delizie e benessere bio con formaggio in piazza e l'arrivo di una folta delegazione di Sindelfingen nel sessantesimo del gemellaggio con il capoluogo. Sara Baldini. Sondrio Festival, formaggio in piazza e la visita di una folta delegazione di Sindelfingen nel sessantesimo del gemellaggio con il nostro capoluogo. Sarà un weekend decisamente intenso e ricco di proposte, quello che sta per iniziare. Innanzitutto mancano ormai in meno di 24 ore all'apertura della 36esima edizione di Sondrio Festival, la mostra internazionale dei documentari sui parchi. La cerimonia di inaugurazione domani alle 16 nella sala consiglio di Palazzo Pretorio. Al termine alle 17 nella sala mostre del Palazzo Comunale a Piano Terra si inaugura la mostra Ghiacciai, la visione dell'acqua, una prima italiana per le opere di cinque acquarellisti cileni che hanno dato corpo alle visioni sul destino delle riserve d'acqua, la cui esistenza è messa a rischio dal cambiamento climatico. Ad aprire la prima serata di Sondrio Festival al Teatro Sociale sarà la conversazione con Giovanna Giardino Sondriese, ricercatrice astrofisica presso l'ESTEC, il centro scientifico e tecnologico dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, che condurrà il pubblico alla scoperta dell'universo con il telescopio spaziale web e le suggestive immagini che fornisce. Saranno dunque proiettati i primi due documentari in concorso, Romania Selvaggia e i grandi felini in bianco e nero. Sempre nel pomeriggio di domani avranno inizio anche le iniziative collaterali di Sondrio Festival nella tensostruttura allestita in piazza Garibaldi, dalle 15 alle 19, i laboratori tutti completamente gratuiti dell'Ecomuseo della Valgerola e quello con i Lego a cura di Valtellina Bricks. Una prima giornata densa di eventi, ideale preludio a un programma da seguire giorno dopo giorno fino alla conclusione di domenica 6 novembre e per l'intero weekend si potrà godere anche delle tante proposte della sedicesima edizione di Formaggi in Piazza e il mercato dei piccoli produttori. Sondrio dalle 9 alle 19 sarà animata dalle bancarelle allestite in Piazza Garibaldi, in Corso Italia e in Piazza Campello. Formaggi di qualità ma non solo, anche marmellate, miele e altri prodotti tipici a chilometro zero. La novità di questa edizione è rappresentata dalla partnership con il distretto biologico della Valtellina e il progetto Interreg Simbio Val che vede la comunità montana di Sondrio capofila per la parte italiana. Nel pomeriggio di domani l'associazione Adansa Davida organizzerà una castagnata solidale per i bambini di São Mateus, città brasiliana gemellata con Sondrio. E proprio in tema di gemellaggi il capoluogo si prepara ad accogliere gli amici tedeschi di Sindelfingen, città con la quale è gemellata dal 1962. Una delegazione di 50 persone guidata dal responsabile dell'ufficio comunale Roland Nahr arriverà in valle domani pomeriggio e per i successivi tre giorni, fino a martedì 1 novembre, è previsto per loro un fitto programma di incontri, visite ed eventi. E parliamo di lavoro, la valtellinese d'adozione Valerice Schena è la nuova presidente di EXA, Federazione Europea per la Selezione degli Headhunter. La conosciamo meglio nel prossimo servizio, vediamo. Valerice Schena-Erenberger è la nuova presidente della ECSSA, la Federazione Europea per la Ricerca, la Selezione e l'Headhunting, in pratica l'individuazione delle migliori risorse da inserire nelle aziende. La prestigiosa nomina è il 21 ottobre scorso a Barcellona durante l'Assemblea Generale di EXA, gruppo che raccoglie in sé sette paesi membri, oltre all'Italia, la Francia, la Germania, il Belgio, la Spagna, il Regno Unito e il Lussemburgo. Austria, che ama valtellinese d'adozione, Valerice Schena-Erenberger, che da giugno di quest'anno è anche vicepresidente di ASSO Consult, è fondatrice e titolare di Valtellina Lavoro, una società che si occupa di ricerca e selezione del personale. Il nostro lavoro, la ricerca e selezione personale, deve garantire il matching perfetto. Il matching perfetto vuol dire trovare la corrispondenza tra un progetto di vita da parte del candidato e l'obiettivo aziendale e questo deve andare d'accordo a lungo termine. Io chiaramente nasco con questa società, la mia società di ricerca e selezione personale, Valtellina Lavoro, che adesso c'è da più di vent'anni addirittura, società che è nata su questo territorio, che però nel corso degli anni è cresciuta e attualmente operiamo su tutto il livello, direi, del Nord Italia. E poi abbiamo un'altra business unit che si chiama Talents for Business, specializzato nei percorsi di recruiting, quindi per adattare o implementare dei percorsi di recruiting. Quello lo facciamo a tutto il livello nazionale, dal Nord Valtellina fino alla Sicilia. A rivolgersi a realtà finalizzate all'individuazione di risorse umane da inserire nei propri organici, come è Valtellina Lavoro, sono solitamente aziende private, mediamente o molto strutturate, e che hanno la necessità di inserire determinate competenze qualificate tra i propri lavoratori. Assieme all'azienda verrà poi elaborato il percorso di carriera più adatto per la fase di inserimento del professionista. Ecco allora che in un periodo di profonda incertezza, come quello storico attuale, nel quale da una parte è lo stesso mercato del lavoro a cambiare, si pensi allo stravolgimento apportato dalla pandemia e da quelle che sono divenute nuove formule oramai note, come il cosiddetto smart working, si assiste ad un crescendo di aziende che sempre più scelgono di farsi assistere da professionisti esterni nella giusta selezione del capitale umano, elemento base della crescita di una realtà lavorativa. La responsabilità che abbiamo noi come recruiter interni o esterni di fare in modo che qua ci alziamo un attimo, parliamo del progetto di vita, parliamo di valori, parliamo del nesso reale che ci può essere nella collaborazione tra una persona e una determinata azienda. dobbiamo parlare un po' di medio e lungo termine e questo non è una fornitura di mano d'opera. E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale, appuntamento alle prossime edizioni del Tg e del settimanale di Telesondrio News. Buona fine settimana.